petricka alessandro condominio.it questa sera una partita contro il bar sound avete vinto se non sbaglio 5 4 partita tirata sempre però voi siete stati in vantaggio e alla fine siete riusciti a portare tre punti importanti a casa com'è andata diciamo è stata una partita tirata perché alla fine abbiamo comandato il gioco però su alcune sciocchezze nostre abbiamo concesso agli avversari gol molto stupidi per questo siamo arrivati all'ultimo minuto nell'acqua alla gola e con il sabbataggio sulla linea all'ultimo minuto siamo riusciti a portare a casa questa vittoria si è notata stasera anche l'assenza di achille matteo che purtroppo infortunato non ha potuto disputare la partita però vi siete ugualmente organizzati e la partita l'avete anche essere stati sempre in vantaggio è un dato importante si diciamo che matteo è un grande realizzatore questa sera si assente dalla sua assenza però nonostante tutto siamo riusciti a sviluppare un buon gioco e fare dei gol che alla fine ci hanno incesso di portare a casa tre punti è un mai un dato di fatto del condominio è questa squadra che rimane sempre unita e porta un gioco molto bello e divertente pensi che si possa ancora migliorare nel proseguimento del campionato oppure una squadra che comunque questa tua già c'è e non ha bisogno di grandi cambiamenti ma secondo me grandi cambiamenti non ha bisogno l'importante continuare a giocare così e aumentare l'attenzione durante tutta la partita perché nei minuti finali spesso cadiamo in queste giocate avversari che ci fanno prendere gol petrick alessandro condominio.it complimenti per la vittoria di stasera e in bocca al lupo per le prossime partite ciao grazie grazie